Dunque, rieccoci tornati insieme. Giovedì, lo abbiamo detto più volte, è per noi. A Just Today, giovedì, è il giorno dei libri. La puntata di oggi sarà ancora più ricca rispetto al solito perché oltre all'intervento della professoressa Carla Bonfitto che ritroveremo nella sua rubrica, l'angolo di pagine d'autore, ci apprestiamo a parlare già da subito anche della festa dei lettori 2024, uno degli eventi di punta dei presidi del libro. Ma cosa sono i presidi del libro e cos'è la festa dei lettori? Ce lo diranno le nostre ospiti in studio, Mara De Felici e Lucia Motolese del presidio del libro di San Giovanni Rotondo. Buongiorno e bentrovate. Buongiorno a tutti e a tutte. Ben arrivate nei nostri studi. Dunque, andrei subito al sodo, mentre la regia opportunamente ci ha condiviso sul maxischermo il sito dell'Associazione Nazionale Presidi del Libro, Caramara, ti chiederei che cosa sono i presidi del libro. Allora, intanto noi siamo un nodo della rete dei presidi del libro che conta 60 presidi appunto nella sola Puglia dove l'associazione è nata e poi ce ne sono un'altra decina, quantomeno, sparsi per l'Italia. C'è stata una sorta di gemmazione. Questa realtà è nata 22 anni fa da un'idea del nostro presidente onorario che è Giuseppe La Terza, quindi non solo grande editore ma anche grande promotore di cultura. e noi siamo stati tra i primi, i primi dieci che sono nati 22 anni fa. Quindi a quel tempo San Giovanni Rotondo era l'unico presidio di Capitanata. Adesso per fortuna siamo in tanti, siamo in buona compagnia. E qual è lo scopo? E' quello di promuovere la lettura, il libro e quindi la cultura. Ed è quello che facciamo, ripeto, da 22 anni. Chiudo questa prima parte dicendo che noi soprattutto cerchiamo di lavorare dal basso. Infatti abbiamo anche contatti con le scuole, abbiamo un gruppo di lettura. Sono belli i grandi eventi, però spesso, soprattutto se non siamo Mantova, se non siamo Pordenone Legge, eccetera, sono iniziative che poi sul territorio non lasciano moltissimo. Invece il nostro è un lavoro certosino, ecco, proprio giorno per giorno. Condivido appieno, vi faccio i complimenti per questa dedizione che tra l'altro conosco personalmente da vicino. Sono d'accordo, bisogna lavorare quotidianamente, soprattutto con i più giovani, e soprattutto oggi che siamo fatalmente distratti da tanti altri mezzi di comunicazione che ci assorbono e ci privano della bellezza e della ricchezza che ci può dare un libro. Quindi l'impegno quotidiano, ma anche i grandi eventi. La festa dei lettori, Lucia, va in questa direzione qua. Sì, però vorrei prima raccontare un po' la bellezza degli incontri che noi abbiamo. Noi abbiamo costituito ormai da anni un gruppo di lettura, in cui poi i rapporti sono diventati amicali e quindi è bello. La lettura condivisa, secondo me, è la cosa più bella perché leggere un libro in maniera solitaria è anche bello. Tu rifletti, ti guardi dentro grazie al libro, però poi poterlo condividere con amiche, amici, è tutta un'altra cosa. E ci avvicina la nostra umanità e il romanzo, e tu che sei uno scrittore lo sai benissimo, come la scrittura poi condivisa, raccontata e la lettura facciano, secondo me, di noi delle persone migliori. Che il confronto sia fonte di ricchezza, lo sapevamo già, ma ecco, vi do una piccola testimonianza, così, non richiesta. E capita proprio anche a me quando mi riscopro, negli occhi degli altri lettori, a trovare tra le cose scritte da me cose che neanche io avevo immaginato. Per cui è davvero fantastico. Sì, a volte leggiamo lo stesso libro, però quando lo raccontiamo qualcun altro dice ma è lo stesso libro che ho letto io, cioè mi è capitato spesso. La festa dei lettori si articola quest'anno dal primo al 15 ottobre. Abbiamo un lasso di tempo abbastanza ampio e quindi abbiamo varie iniziative, a partire dal primo ottobre, in cui avremo un collegamento con la storica Silvia Salvatici, con cui parleremo di Carla Lonsi, una femminista che è stata riscoperta, rivalutata negli ultimi anni, e che è molto radicale, piace molto per questo, ma se pensiamo che i suoi scritti sono del 70-74, ci rendiamo conto come ancora non abbiamo raggiunto quella mancanza di pregiudizi nei confronti delle donne. Tu lo sai, le analisi fatte in Italia dicono che ancora la maggioranza degli italiani ha pregiudizi nei confronti delle donne e non pensa che le donne siano alla stessa altezza degli uomini, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare, per cui lavoreremo, racconteremo il primo ottobre, appunto Carla Lonsi con la storica Silvia Salvatici. Posso dire? Sì, posso intervenire. Sì, sì, assolutamente sì, mentre stiamo vedendo questa bellissima grafica che accompagna la ventesima edizione della festa del rettore. Sì, siamo arrivati alla ventesima edizione, questa è la kermesse più anziana della nostra associazione e avviene sempre in questo periodo per cercare di coinvolgere anche le scuole. Non a caso abbiamo anche la sponsorizzazione, chiamiamola così, del Ministero per l'Istruzione e il Merito, adesso si chiama. No, volevo dire, volevo solo aggiungere questo, che noi da quest'anno stiamo lavorando proprio sull'universo femminile e abbiamo cercato di, come dire, di coglierlo da più punti di vista. E anche la nostra festa è dedicata alle donne, tanto è vero che si intitola Donne, detti e delitti, la forza femminile tra saggezza, impegno e mistero. Scusami, eh. E poi abbiamo il 4 ottobre la proiezione del film Little Sister, abbiamo il 9 ottobre invece qualcosa di diverso, i proverbi di San Giovanni Rotondo, il dottor Cascavilla ha scritto un libro su questi proverbi, ma noi vedremo soprattutto quelli dedicati alle donne, che ahimè sono molto sessisti, come puoi ben immaginare. Poi il 12 ottobre abbiamo un'altra iniziativa, Mara, quella con Raffaella Verde. Sì, Donne Giallo. Raffaella intervisterà Raimondo Ardolino, che è un giallista locale, però anche qui ci soffermeremo a parlare delle donne protagonisti dei gialli e delle grandi scrittrici, perché oramai abbiamo delle gialliste affermate, la Bartlett, la Fred Vargas e tante altre. Quindi abbiamo voluto, a proposito di mistero, soffermarci anche su questo aspetto così un po' meno impegnativo, diciamo, ecco, un pochino più leggero. L'ultimo è il 15 ottobre, con una persona molto preparata, molto importante, Anna Rosa Buttarelli, che è la curatrice del fondo di Carla Lonsi, che è a Roma, e ha fatto la prefazione alla pubblicazione dei libri di Carla Lonsi, insieme a Orietta Limitone, che è la presidente del presidio del libro. E quindi sarà sicuramente un'iniziativa importante che terremo al chiostro. Questo per quanto riguarda la festa dei lettori. Programma davvero molto ricco e a noi fa piacere condividerlo con tutti i nostri telespettatori in maniera particolare con quanti dovessero trovarsi a San Giovanni Rotondo in questo periodo, perché potrebbero arricchire il proprio soggiorno qui con un momento culturale davvero di grande spessore. Paola, tu non mancherai, no? Assolutamente no. Aspettiamo che la camera abbia il tempo di inquadrarmi, quindi... Io ho sorpreso, ho sorpreso la regia. Hai sorpreso la regia. Paola è un'avida lettrice, come tutti quanti noi, ed è una persona estremamente attenta alle attività culturali di San Giovanni Rotondo, per cui mi faceva piacere tirarla in ballo. Eccomi. No, a questo proposito, intanto approfitto per salutare Mara e Lucia, che sono due amiche, vorrei darvi una notizia proprio flash, che riguarda il fatto che, secondo dati Ox e Pisa, gli studenti che leggono libri di oltre 100 pagine hanno un vantaggio equivalente a circa un anno scolastico nella comprensione della lettura rispetto a chi non lo fa. Quindi un vantaggio che si estende anche alle competenze digitali. Quindi, come dire, un motivo in più per leggere. Assolutamente sì. Potremmo trascorrere una mattinata insieme a definire i mille modi e che cosa può rappresentare un libro nella nostra vita. L'immagine più semplice che viene a me è che si tratti davvero, ogni libro è un forziere, che nasconde un tesoro immenso, che ci aiuta a riflettere, che ci arricchisce. Quindi leggiamo, leggiamo di più e partecipiamo alla festa dei lettori. Siamo alle battute conclusive. Ahimè, care Mara e cara Lucia, come vogliamo salutarci? Beh, intanto volevo aggiungere una cosa. L'ultimo incontro, quello del 15, è organizzato proprio dall'Associazione Nazionale. Da due anni, questo è molto interessante, l'Associazione, diciamo, regala ad ogni provincia un evento speciale. Per noi è questo incontro con la curatrice anche della nuova pubblicazione per la nave di Teseo dei libri della Lonzi. Però avremo anche una ad Ostuni, un incontro su Goliarda Sapienza, a Bari su Virginia Woolf, un'altra a Nardò sull'intelligenza artificiale e a Barletta su Frank Kafka. Quindi, insomma, cerchiamo veramente di dare un input alla lettura, anche perché diciamo che in Puglia non si legge tantissimo e noi ci lavoriamo tanto, ecco. Esatto. Sì, io vorrei aggiungere anche un'altra iniziativa che abbiamo il 25 ottobre che fa parte della rassegna Il Libro sul Lettino che io curo insieme, noi presidi del libro, curiamo insieme al ruolo terapeutico di Foggia in cui raccontiamo il libro dal punto di vista delle emozioni che suscita e approfondiamo dei temi di carattere psicologico insieme a psicoterapeuti che partecipano alle iniziative. Tutto davvero molto bello, sono davvero felice di aver trascorso questi minuti insieme a voi per parlare di argomenti così importanti. Mi auguro ci si possa ritrovare, magari per fare il punto di quello che succederà nei prossimi giorni, per cui, ecco, mi piace pensare che questo sia un arrivederci a presto. Grazie, grazie per l'ospitalità e arrivederci. Bene, allora, mi auguro di ritrovare Mara e Lucia tra non molto. Intanto ci fermiamo per una nuova pausa pubblicitaria, ma rientro, torniamo, continuiamo a parlare di libri. Come preannunciato lo faremo con la professoressa Carla Bonfitto, il suo angolo di pagina d'autore. Restate con noi. Grazie. Grazie.